Di Maio su regionali, patto col PD per l'Umbria con civici in giunta, Zingaretti si al confronto, Franceschini a Renzi non spaccare il partito. Salvini appuntì da referendum se tocca nel decreto sicurezza, Forza Italia, centrodestra faccia opposizione, comune. L'attacco con i droni alla raffineria più grande del mondo in Arabia Saudita, l'America accusa l'Iran, timori per il prezzo del petrolio. Pinerolo, auto prende fuoco in autostrada, muoiono bimba di sei anni e il padre e la madre ha cercato in vano di salvarli. SOS Terra, il Tg1, aderisce all'iniziativa globale con 250 media del mondo per raccontare le conseguenze del cambiamento del clima. Caldo sull'Italia fino a mercoledì, ultimo weekend estivo, traffico sulle strade del rientro, da domani si torna alla routine. 40 anni fa nasce Val Bacchiara, una delle canzoni più famose poetiche di Vasco Rossi, sottovalutata all'esordio, figurava nel lato B del disco Non siamo mica gli americani, che adesso esce in versione rimasterizzata. Buonasera dal Tg1, tra 5 Stelle e Partito Democratico, dialogo in vista delle elezioni regionali. Di Maio propone un patto civico per l'Umbria, bene, avanti con il confronto, dice Zingaretti. Dal leader 5 Stelle, parole importanti, sottolinea Franceschini, che si rivolge anche a Renzi. Il PD è casa tua, non spacchiamo il partito. Francesco Maesano e poi Paola Cervelli. Un passo indietro della politica, uno avanti dei cittadini. In un'intervista alla Nazione, Di Maio propone il suo modello per le regionali in Umbria. Le forze politiche lasciano...